Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi ci immergiamo nel mondo scintillante del gossip con una notizia che sta facendo impazzire il web, Hilary Blasi è incinta del suo nuovo amore, l'imprenditore tedesco Bastian Müller. Se vi piacciono i nostri contenuti, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le ultime novità dal mondo dei VIP. Ma ora, entriamo nel vivo della questione. Dopo il documentario Unica su Netflix, dove Hilary ha aperto il suo cuore riguardo la storia con Francesco Totti, un nuovo capitolo sembra aprirsi nella vita della showgirl. La notizia bomba, lanciata dall'esperta di gossip di Yanira Marzano, parla di una presunta gravidanza. Le fonti sono ancora da verificare, ma l'indiscrezione ha già scatenato un turbine di reazioni online. Hilary e Bastian, la coppia che ha suscitato curiosità e ammirazione, si trovano ora al centro di queste voci. Recentemente hanno trascorso del tempo insieme a Saint Moritz, dove si è notata l'assenza di Hilary dalle solite attività sportive, un dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti. Mentre attendiamo una conferma o smentita da parte di Hilary, non possiamo fare a meno di chiederci, assisteremo presto all'arrivo di un nuovo bebè nella vita della showgirl. Lasciate un commento con le vostre opinioni e teorie, e non dimenticate di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del gossip.